Aia, è già quella rampa, lì non mi piace. Sì, è una nicchia. Sì, è questa la regatura. È già quella rampa, lì non mi piace. Allora, invito automaticamente, vediamo che dentro. No, poi con le compatte, quando adesso la fai? Con le compatte, con le compatte, che c'è? Non va con le compatte. Allora, l'importante è che non si chiacchierà a Gia, poi. Vabbè, non è Gia, è senza collisioni, dai. Allora, non c'è quella moto? Eh no, se sono le compatte la moto non c'è. Allora, combatte tutte. Che macchina mi consigliate è compatta? Non lo so, se non ti piace la moto è via della Easy. Io non ce ne ho manco una modificata. È la tipo la Golf? La Easy a Mini Mini. Ah, la Mini Mini. Eh, c'è sta pure la Mini Mini, sì. Ma almeno è bui dati, la moto. È compatta e sono modificata la moto. Ah, vabbè, ma qui mi pare che queste possono... Sono tutte originali, se no, no. No, non so, tutte originali. Vabbè, comunque l'avvio, dai, se la fanno noi. Vai, 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 vai. Ho fatto l'invito automaticamente, ma non manco, sono partiti, l'invito. Vorrei entrare? Eh, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. perché qui è un po' di un po' ora che mi piace il tutto lo conto voglio vedere come fa per di va a trattare io ho preso un paletto oddio si può legare con le patte io no, io ho messo ho messo compatte, c'era quella va dai, come è successo? non sta sempre a far piacere eccolo dai, pariamo via con la pioce l'ampione ma dai, oh, messo c'è 4 no 4 ma non c'è questo 4 4 4 ma quanta caffè dura questa macchina no no e supera il world ride ragazzi supera il world ride anzi no è il giro della morte dai favo con questa macchina gira per dio è un mezzo sprint si lo so lo so vabbè dai ma io andiamo tatteggiando è un mezzo sprint lui doveva fa il precisino va a giù eh che ti pareva ma vedi che qui si sperino un po' gioca a sotto non vince quando non gioca a sotto è in aria che vuoi non lo perdi no ce l'ho fatta mi dici l'ho visto giù io e s'ho trovato no dai lo dico per voi lo dico per voi non vince perchè non sono in forma che cosa non sta in forma sono 3 giri raga ma non fai via vai quando perdi non sta in forma non sta in forma non sta in forma non sta in forma bravo a dirgli scusi ma non serve andare più veloci anzi l'importante è riuscire a rimanere a raro un po' fuori eh no la voce eh infatti non perdiamo più veloce infatti si è suicidato sono esploso sono esploso miseramente pochettino ma di che è da cane senza voce che avvaga il mio canto cane senza voce c'è la voce rauca non c'è ne senta voce perchè il cane c'è la voce c'è la voce rauca no vabbè questa non è stata che devo fare la taglia su youtube Zervi che mazzi c'è la filipata? il cane con la voce rauca però maledetto ma per chi mi sono allora? io sì che stavano bella è esploso vedete che sono un parale delle bombette che a me non ci ha attaccato è a belli eccolo Perry che mi ha separato maledetto bravo Perry cosa fai imbrogli? no 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 che merda e si e si apprezzo a fare i testi no ma hai capito Perry come fa il giro della morte eh? taglia seguito da il capitano rucino si è possibile fare la rotonda giusta e la tagliata ma seguito da Perry chi è che taglia Perry? l'ho fatto degli famori si si io sono maradona ah non l'ha fatto il giro della morte eh ma sei finti reali ma sei finti reali no? se c'è da fare il cerchio ti fai il cerchio e basta se o usi le armi o bai voglio vedere guarda ora c'è davanti eh voglio vedere più nelle gare malate lo vi giuro voglio vedere mi chiede più mi chiede più nelle gare malate sei un ladrone sei sei un ladrone sei un ladrone guarda guarda tu che ti chiede? tu in cielo? eh si eh un brogione si si io io non dico è qualcosa che sbaglio guarda te l'hai nella mia lista nera occhio sto proprio in centro ecco l'azione no devo prenderla un po' più dritta ora sono curioso di vedere che imbroglia eh stavolta l'ha fatto ma perry è un ladrone però qui non proprio l'ho fatto anch'io perry sono dietro di te ah quindi state dietro di me eh eh però ho capito eh però ho capito non potete rubarlo c'è dei merdati eh io non l'ho rubato l'ho rubato prima l'ho rubato prima a quest'ora ma ma non rubo mai no ma non rubo mai eh vedi è proprio un ladrone eh vai 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 è andata bene sei se l'imbrugliavi non ci arrivava il terzo se l'imbrugliavi non ci arrivava il terzo se l'imbrugliavi si 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 imbrugliavi ma sì però ho l'obbliganza di ingettarlo ladrone Zerbino ma io si finiva in una gara ero un ladrone perry ehm faccio un po' fatica sei proprio un ladrone perry prima se 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 non mi faceva a Zerbino magari se non mi faceva a Zerbino ma prima era prima è ora di pensare a ora eh sì wow ora sono io scusa eh è proprio facile vedere quella di prima e pensa a questa ah